Perché sei vittima di un narcisista, malgasciona? Perché la vittima di un narcisista se la va a cercare, se la va a cercare, santo saluto anche fan fatal, perché diciamo questo, che la vittima tende a diventare spietata nei confronti di se stessa, questo è il concetto di fondo, tende a diventare spietata non nei confronti del narcisista, ma bensì nei confronti di se stessa, cioè diciamo cerca di abbattere, come si può dire, cerca di abbattere quelle che sono le sue, diciamo così, barriere e si sacrifica, perché il sacrificio, il sacrificio fino alla morte, no? Io lo amo, io lo amerò per sempre, salutiamo anche Andrea Giovani, e questo cosa significa? Significa che oltre a avere a che fare con un narcisista di merda, tu sei una merda, tu ti consideri e sei una merda se continui a legarti al narcisista, questo è un dato di fatto, questo è un dato di fatto, io sono un teenager, mica sono vecchio come te, malgasciona di una fan fatale, e questo l'autostima diciamo zero, una persona che si lega con un narcisista ha autostima zero, autostima zero praticamente, e questo dobbiamo tenere presente, chi si lega con un narcisista ha un'autostima che sta sotto i piedi, non vale assolutamente nulla, dobbiamo tenere presente questo concetto, è un concetto fondamentale, che dovete tenere presente e se volete superare, diciamo, questa cosa qua dovete iniziare a dare vita alla vostra autostima, dovete per forza dare vita alla vostra autostima, perché dovete cambiare la visione della vita che avete di voi stessi, perché se vi vedete, diciamo, innamorate oltre ogni limite, oltre la vostra dignità del narcisista, non riuscirete più ad apprezzarvi, anzi, l'equazione si regge in piedi soltanto se vi denigrerete, per cui dovete offrire, salutiamo anche warm all, la vecchia warm all, dobbiamo imparare ad offrire emozioni forti alla nostra parte emotiva, è il miglior modo per accedere alla nostra, per accrescere l'autostima, per fornirci la sicurezza necessaria, dobbiamo darci delle emozioni, dobbiamo a tutti i costi erogarci delle emozioni, questo è veramente l'unico modo, e la chiave di volta, la vittima del narcisista, diciamo, dovrà quindi lei stessa fare lo sforzo di apprezzarsi, dovrà lei stessa fare lo sforzo di amarsi, altrimenti non c'è niente da fare, non si uscirà fuori da questa situazione, bisogna, diciamo, imparare a entrare in contatto con il nostro bambino interiore, a curarlo, ad amarlo, a farlo crescere, perché questo è veramente l'unico sistema per poter superare, diciamo così, questo io lo amerò per sempre, io lo amerò per sempre, perché io lo amerò per sempre non esiste, e poi le persone dicono, narcisista ti amo, no? Devi correre il rischio, perché sono le tue paure che ti tengono legato a questo tipo di relazione, vivere una relazione con il narcisista, uomo, donna, chi sia, diciamo, può anche essere vissuto in modo positivo, perché è uno strumento per conoscere se stessi, perché il narcisista ti dà la possibilità di riconoscere attraverso una relazione e soprattutto attraverso il superamento dell'attaccamento con il narcisista, hai la possibilità di riuscire a riconoscere, diciamo, quella tua parte interiore, hai la possibilità di riconoscere te stessa, e questo è un punto fondamentale, no? Perché dobbiamo vedere il positivo in tutti, anche la relazione con il narcisista ci può far migliorare, perché ci permette di conoscere quelli che sono i nostri limiti, ma soprattutto quello che è il nostro imprinting, e quindi capire che se tu provi un attaccamento per un narcisista che poi ti svaluterà, ti distruggerà, ti rovinerà la vita, è perché hai una bassa autostima, hai un'autostima sotto i piedi, pensi di non valere nulla, pensi di essere una merda. Quindi la dimensione, diciamo, psicologica interiore di ognuno di noi si manifesta, diciamo, grazie proprio a una relazione, anche a una relazione con il narcisista. Saluta Noemi, saluta Letizia, anche a una relazione con il narcisista. E quindi questo dobbiamo tenere presente che abbiamo la possibilità di valutare e di utilizzare positivamente ogni evento che ci capita. Ogni evento che ci capita può essere utilizzato a nostro vantaggio, può essere utilizzato a nostro favore. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare. E come fare a fare questo? Beh, diciamo, dobbiamo oltrepassare e superare quelli che sono i blocchi che ci tengono vincolati, cioè superare le nostre paure. Perché sicuramente se tu stai con un narcisista hai autostima bassa, paura di essere abbandonato e di non trovare un'altra persona. Ti sentirai svergognato e magari temerai anche il giudizio, no? Quindi devi iniziare a fare proprio delle cose. Ora, io quello che dico di solito, no? Ci sono delle terapie, no? Che uno può fare, ma ci vuole anche un'altra vita. Io penso che il classico vaffanculo al narcisista possa essere un qualcosa di utile. Perché se tu veramente riprendi in mano la tua vita, te ne fotti della solitudine. Anche se hai sbagliato prima il narcisista ti ha, diciamo, per così dire isolato e ti ha rovinato un po' la vita. Perché se sei arrivato a farti isolare, significa che la vita te l'ha rovinata. E quindi vedi il senso della solitudine come una delle caratteristiche essenziali dell'essere umano. Perché noi di fatto nasciamo soli e moriamo soli. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo temere è la solitudine. E quindi manda l'affanculo, sto narcisista, e non temere alla solitudine. Anzi, immergiti nella solitudine. Perché la solitudine è una condizione, diciamo, è una condizione fisiologica, no? Stare da soli. Anzi, c'erano dei ragni, adesso mi ricordo quali ragni, che è più furbi di noi, stavano a distanza, no? Cioè, ma anche le aquile stanno a distanza. Le aquile ce ne sono due ogni 100 chilometri. Quindi tenete presente questo. Se ci sono al massimo due aquile ogni 100 chilometri, come dire, ogni raggio di 100 chilometri, vuol dire che, insomma, possiamo anche stare da soli noi. La solitudine dobbiamo imparare a coltivarla, dobbiamo imparare a viverla. Se tu impari a vivere da solo, impari a... Beh, posso... No, ma paura della solitudine magari no, però anche paura dell'abbandono non bisogna avere. Né paura della solitudine né paura dell'abbandono. E tenere presente che poi il narcisista, di fatto, come dire, è chiuso nel suo guscio, è chiuso nella sua, nella sua, diciamo, prigione, perché il narcisista vive di fatto una prigione egoica, no? E quindi è attraverso, però, questo passaggio, il passaggio della solitudine, noi, anche il passaggio di essere abbandonati, perché poi il narcisista ti fa anche il ghosting, poi torna, però il ghosting te lo fa, attraverso questo passaggio e attraverso anche il disamore che ti dà il narcisista, attraverso il disinteresse che ti dà il narcisista, ma disamore sicuramente, iniziamo noi a strutturare una nuova personalità, una personalità più forte, una personalità, potremmo dire, invincibile, da un punto di vista della sofferenza, cioè niente, nessuno potrà più farti soffrire, però, come dire, bisogna fare la discesa agli inferi, no? D'altra parte, in tutte le culture, in tutte le culture, c'è questo mito della discesa agli inferi. Cosa vuol dire discendere agli inferi? Vuol dire venire a patti, venire a contatto con le nostre parti più profonde, entrare in contatto profondo con le nostre parti più profonde. Questo è fondamentale. Dobbiamo uscire fuori dall'abbandono e arrivare alla creazione. Noi abbiamo la possibilità di creare, creare la nostra vita, creare le situazioni. Quindi impariamo a, come dire, immergerci nella solitudine e perché questo sarà fonte di rinnovamento, no? Potremmo rinnovarci, potremmo reimmaginare noi stessi, immaginarci di nuovo, e creare una nuova personalità, creare una personalità più forte. Altrimenti su un piano emotivo tenderemo a morire, perché la nostra parte emotiva ha costantemente bisogno di nutrimento emotivo. E se non glielo diamo attraverso, come dire, emozioni belle, può prendersene anche attraverso le emozioni di merda che ti fa vivere narcisista. Ma non soltanto prenderti delle emozioni di merda, ma è restare ancorato, vincolato a quelle emozioni di merda con il nome dell'amore. Pensa, il nome dell'amore, che non c'entra niente con l'amore. Però in nome dell'amore molte donne vanno a, molte donne, molti uomini vanno al sacrificio, anche al sacrificio massimo, no? Pensate ai martiri, ai martiri che vanno col sorriso sulle labbra al rogo. Perché, diciamo, in nome dell'amore, se vogliamo. E le persone che stanno con il narcisista, in nome dell'amore, ma è un nome di un falso amore. Come direbbero i testimoni di Geova, il falso Dio è il vero Dio, no? Ma prendiamo anche di buono quello che c'è nei testimoni di Geova. Chica, chicca, ciao. Roxy, Silvi, Liana. Prendiamo quello che di buono c'è anche nei testimoni di Geova con il falso Dio. E questo è un falso amore. E quindi noi dobbiamo, diciamo, iniziare a fottercene. A fottercene di essere abbandonati, a fottercene di essere, diciamo, lasciati, e anzi immergerci in questa esperienza. La discesa agli inferi, mitologica, diventa per noi la discesa nel mondo dell'inconscio, nel mondo dei nostri turbamenti, laddove le nostre ferite si sono formate. Perché se noi riusciamo a entrare in contatto con le nostre ferite, laddove queste ferite si sono formate, beh, diciamo, potremmo tirare acqua al nostro mulino. E questa relazione... Ciao, pretty woman! Ciao, Liana Dami! E questa relazione con il narcisista può trasformarsi in qualcosa di positivo. Quindi potremmo aprire degli squarci, delle feritoie, nel nostro mondo interiore, iniziando a sviluppare un risveglio, un risveglio spirituale. Tra l'altro, a proposito di risveglio spirituale, sto trattando sul mio nuovo canale, di cui vi posto il link, cari Malgascione, cari Campane, questo è il link del mio nuovo canale, vi suggerisco di andare a iscriversi, è Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco, perché su questo nuovo canale parlerò proprio anche di percorsi di crescita spirituale, come sviluppare la propria spiritualità. Quindi, diciamo, iscrivetevi a questo nuovo canale, vi posto il link, si intitola Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco. Tra l'altro, annunzio Vobis Gaudium Magnum che abbiamo abbondantemente, diciamo, 1050 credo, superato i 1000 iscritti, quindi nel giro di 5 giorni, 1000 iscritti. Dai, come traguardo, mi piace, 5 giorni, 1000 iscritti a questo canale, ma adesso per portare a termine il compito, devo arrivare a 4000 ore di visualizzazione, quindi guardatevi i video, vecchia Malgascione, continuate a iscrivervi e arriviamo a 10.000. Adesso dobbiamo raggiungere, già raggiunto, già raggiunti, 1000 iscritti li abbiamo raggiunti, Vindreams, già raggiunti. Adesso l'obiettivo è 10.000 iscritti, dai, arriviamo a 10.000 iscritti rapidamente con il nuovo canale, perché un canale che non ha 10.000 iscritti è un canale di merda, diciamo così. Quindi arriviamo a 10.000 iscritti, 10.000 iscritti raggiunti, raggiunti. E quindi tratteremo questo tema. Allora, dobbiamo tenere presente, quindi, salutiamo anche Giorgio, che non so che Giorgio è. Comunque, teniamo presente questo. Quindi dobbiamo partorire, diciamo così, un investimento affettivo verso noi stessi. Questo è importante. Dobbiamo imparare a partorire un investimento affettivo verso noi stessi e togliere, utilizzare l'energia Thanatos, cioè l'energia decondizionante, l'energia di disinvestimento. Ah, Giorgio di Torino. Ciao Giorgio, eccolo qua. Energia di disinvestimento verso il narcisista. Dobbiamo togliergli l'amore che gli abbiamo dato. E questo è un qualcosa che noi possiamo fare, perché abbiamo questa possibilità se, diciamo, tiriamo fuori l'istinto di sopravvivenza, l'istinto forte. Questo è molto importante. Ovviamente il narcisista farà il suo gioco, quindi non dovete prendervela con il narcisista, perché lui fa il suo gioco. Siete voi che siete coglioni se state con un narcisista. Il narcisista di fatto è perseguitato anche lui dal suo pensiero, dall'ossessione all'autogratificazione. Ma non è il suo problema, perché lui sta facendo il suo gioco, che sia consapevole, che sia inconsapevole, ma fondamentalmente dovete imparare a sviluppare questa caratteristica. Dovete imparare a sviluppare questa caratteristica. E la spiritualità credo che sia fondamentale, perché se noi diamo un nuovo significato al significante, dobbiamo imparare a dare un nuovo significato al significante, riusciamo a superare queste situazioni, riusciamo a superare queste condizioni. E se volete, diciamo, raggiungere un percorso, fare un percorso di crescita spirituale, potete iscrivervi al mio nuovo canale, di qui vi lascio il link qua sotto, che è Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tremasca. andatevi a iscrivervi, carampane, che arriviamo a 10.000. Abbiamo raggiunto i 1.000, raggiungeremo i 10.000. Ce la faremo, ce la faremo. Ad arrivare a 10.000 iscritti con un nuovo canale, carampane, malgacione, arriviamo a 10.000. e il narcisista poi ha anche dei rancori, no? Perché di fatto è una persona rancorosa, è una persona negativa, che finge di essere positivo. Finge, ma apriamo l'ufficio di collocamento di fidanzati, sani di mente, fattori dimentini e intelligenti extraterrestri. Esatto. Brava, mi tocco il naso su fidanzati. Vabbè. Quindi togliamo gli eros e diamo gli thanatos. Togliamo gli eros e diamo gli thanatos. E se abbiamo a che fare con una relazione narcisistica, facciamo perlomeno in modo che questa relazione sia una relazione breve. Cioè non stiamo a perdere tanto tempo nel rapportarci con un narcisista. Abbiamo questa forza. Perché tanto il narcisista non è destrutturabile diversamente, non è ristrutturabile. Prima perché non ne ha voglia. Secondo perché in questa situazione di malessere che vive, però, diventa una sorta di vocazione, no? Per il narcisista manipolare è una sorta di vocazione. E quindi noi iniziamo a dare emozioni alla nostra parte emotiva anziché dalla narcisista. Iniziamo a dialogare con la nostra parte emotiva. dialogare con la nostra parte emotiva cosa vuol dire? Dialogare con il nostro bambino, con il nostro bambino interiore. Vai a fare un viaggio all'interno di te stesso che c'è sempre un bambino, una bambina interiore con la quale puoi interagire, con la quale puoi entrare in contatto. Perché questo contatto è fondamentale. Ti permetterà di smettere di dire eh ma io lo amo, io lo amo. Ma ti tratta male, ma non vedi che è un narcisista di merda? Eh ma io lo amo, io lo amo. E quando dici io lo amo, io lo amo, io lo amo, praticamente ce n'hai già 25 centimetri, no, dietro. E lì la colpa, la colpa, diciamo, non è che si tratta di colpa, però si tratta che tu non sai gestire la tua emotività e non sai dire vaffanculo al momento giusto quando dovresti dirlo, no? Perché, diciamo, accettare questa cosa crea incomprensioni, accettare questa cosa crea incomprensioni con la propria parte emotiva, crea una dissonanza, crea una rottura, crea una frattura interna e quindi poi il collante che va a agglomerare questa fortuna e questa frattura che va a chiudere questa frattura magari è, che ne so, un sintomo nevrotico, addirittura un sintomo psicotico, no? Diventate nevrotici, diventate stressati, vi capita di tutto, uscite fuori di casa e vi tira sotto una macchina perché non guardate dove attraversate. perché poi succedono anche queste cose, no? Perché capitano, ah, gli è successo un incidente, è perché se tu c'hai la testa, la tua testa di minchia, diciamo così, è canalizzata, eh, ma io lo amo, io lo amo, esci fuori, cammini, io lo amo, io lo amo, arriva un tram, ti tira sotto e così è finita la tua vita di merda e vabbè, e spera in una reincarnazione positiva che ti possa capitare qualcosa di buono, però in realtà salutiamo anche i lachi, diamo benvenuto a i lachi in chat, bene i lachi, entrate in chat, cari carampane, fate come ha fatto i lachi, ecco quindi che bisogna, diciamo, bisogna imparare a fare qualcosa di nuovo, bisogna imparare a gestire la vita secondo una nuova modalità, questo è importantissimo, questo è fondamentale, imparare a gestire la nostra vita al meglio senza restare bloccati in paure che noi abbiamo, quindi impariamo a fottercene, reattiva la tua dimensione facendo pace col tuo bambino interiore, quindi vai dal tuo bambino interiore, fai il viaggio, discendi negli inferi, che significa di scendere nell'inconscio fondamentalmente, perché se sei consapevole di te stessa, cara carampana, non sei più manipolabile, diventi veramente libera, soltanto le persone che sono consapevoli di quello che hanno dentro possono essere veramente liberi, perché se tu non sei consapevole di quello che hai dentro e che non sia il pisello, perché voi malgacione carampane siete consapevoli solo quando dentro avete il pisello, ma anche quando diciamo se non sei consapevole quello che c'è dentro il tuo inconscio, quello che c'è dentro la tua parte emotiva, non riuscirete a fare un bel niente, quindi è importante anche viversi la sofferenza, anche viversi la sofferenza dell'abbandono, non averne paura e quindi andrete oltre, andrete oltre e imparerete diciamo imparerete a sviluppare nuove possibilità e soprattutto smettere di dire ma io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo e allora finalmente potrete evolvervi da vermi quali siete, invertebrati quali siete, potrete percorrere tutta la trafila dell'evoluzione in modo rapido dentro di voi e diventare esseri di luce, esseri illuminati, quindi da verme a essere di luce, essere illuminato, tutto in un colpo diciamo così, semplicemente rendendosi conto attraverso la consapevolezza che è sempre qualcosa di fondamentale, quindi imparare a riconoscere i doppi legami, le contraddizioni, le disconferme, le umiliazioni, le vessazioni che ti dà il narcisista e allora quando hai capito quale è il suo giochino del manipolatore narcisistico che ti vuole denigrare, ti vuole legare attraverso un doppio legame, tu riuscirai a venire fuori da questa situazione. Poi tra l'altro venire fuori è sempre meglio che venire dentro perché di solito non genera problemi, no? Quindi questo dobbiamo tenere presente che è anche fondamentale. Quindi dobbiamo avere questa possibilità. Quindi smettiamo di tradire se stessi, noi stessi e smettiamo di dire ma io non amo, io non amo, io non amo perché non serve a niente. Quindi l'abbraccio del narcisista, il bacio del narcisista è un bacio della morte. Quindi è un abbraccio mortifero, è un bacio della morte. Quindi non crediamo mai a queste cose che talvolta il narcisista dice, che talvolta il narcisista racconta. Un saluto anche a Gattetto, ciao Sandra, la nostra Sandra Gattetto. Il narcisista ha una corazza ma se noi riusciamo a distruggere questa corazza riusciamo ad entrare. L'abbraccio del narcisista è un abbraccio mortifero come il bacio del narcisista, è peggio del bacio di Giuda perché è il bacio della morte della vita. Quindi noi non dobbiamo cadere nelle trappole che il narcisista farà perché il narcisista soprattutto quell'istrionico farà delle trappole. Diciamo che comunque risulta falso agli occhi delle persone attente ma agli occhi di voi che siete carampane povere margascione vi fate fregare fondamentalmente no? Da un abbraccio perché siete affamati avete bisogno avete bisogno di ossigeno avete bisogno di tante cose quindi vi prendete anche la merda del narcisista ma voi entrate nella merda e vedrete che potrete venirne fuori pulite potrete venirne fuori a testa alta ma è un percorso che dovete fare un atto di coraggio che dovete imparare imparare a fare e potrete anche vendicarvi tra virgolette vendicarvi semplicemente non dandogli attenzione dando indifferenza perché dare indifferenza al narcisista è come un'amazzata no? proprio in fronte come un colpo in fronte che lo distrugge perché il narcisista vive di immagine no? vive di interesse questo è un punto fondamentale no? e quindi fate questo e vedrete che ne uscirete fuori e non starete più a dire ma io lo amo ma io lo amo quando capirete che si tratta di un narcisista di merda lo manderete a fanculo il narcisista è consapevole ma non non si sente colpevole il narcisista è consapevole ma non è consapevole della sua maschera non è consapevole per diventare narcisisti del suo blocco delle emozioni d'altra parte crede che le cose stiano in questi termini perché ha sempre vissuto in questo modo no? quindi il 90% del narcisista ad esempio non va a fare terapie perché pensa che sia normale comportarsi in quel modo lì bene quindi le live oramai sono brevi saluto anche il nostro Cristian la sorsa le live le faccio frequentemente ma di una mezz'oretta abbiamo affrontato un po' il tema del narcisismo abbiamo siamo arrivati a mezz'ora e quindi inizio un po' a salutare un po' di persone saluto chicca fan fatale saluto la nostra stella marina che non so se c'è Roxy Rosa Cristian Giorgio Pink chi abbiamo ancora vediamo un po' Noemi abbonati del canale e vi esorto Liana Stilvy Girls vi esorto iscrivervi al mio nuovo canale esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco vi metto il link obiettivo 10.000 care carampane obiettivo 10.000 cerchiamo di raggiungere 10.000 quindi divulgate il link del mio canale nei vostri social carampane non vi costa nulla divulgatelo su Facebook divulgatelo nei vostri social di merda anche se avete solo 4 gatti fate iscrivere i 4 gatti che avete divulgate il mio social come la buona novella il mio canale divulgate la buona novella miscredenti divulgate il link del mio canale miscredenti nei vostri social portiamo la buona novella a tutto il mondo sì ma divulgate faccio quello di tutto sulla magia certo fan fatale divulga tra le tue carampane amicizie di New York che a New York ci sono tanti abitanti falli iscrivere tutti fai peggio dei testimoni di Geova fan fatale vai porta a porta da tutti i new yorkesi e falli iscrivere il mio canale andate dei vostri condomini andate a far iscrivere tutti i condomini tutti dove cazzo abitate in mezzo alle capre tutto il paese lì fate iscrivere anche anche i pinguini tutti iscritti al mio nuovo canale esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco cari carampane cari malgacione bene un saluto a tutti ciao a tutti a presto a tutti a presto a tutti a presto a presto